Non sono un Trecchi ma un enterprise di passaggio mi farebbe comodo. Legato come sono non raggiungerei comunque il comunicatore. Lunga vita e prosperità. Se l'avessi. L'ho sempre avuto sotto il naso. Ecco. Consumo il rito anche con lei. Mi dispiace Martina di averti coinvolta in tutto questo. Taglia. E ora sembra quasi che riesco a sentir gocciolare anche il suo di sangue. Altri tre minuti. Slog di nuovo dal presente. Saranno state le sei del mattino poco più quando portano una notizia al commissario. E questo? Ti sei rotto mentre hai ammazzato, vieni. Commissario, mi hanno trovato un altro a San Pietro. E finalmente mi lasciano fare la mia telefonata. Mi rilasciano dopo un paio d'ore. Martina mi aspetta. Fortuna vuole che ritrovi il mio dorato cappello. Ancora supervi. O forse dovrei ringraziare quel tizio in calzamaglie. Mettete sui giorni e non ti muovi. Che cosa hai combinato questa volta? Mi hanno scambiato per un'altra persona. Come ti hanno scambiato per un'altra persona? Vabbè sì certo tu sei così comune, proprio nella media direi. Hai fatto qualcosa e non vuoi dirmelo per non farmi preoccupare? Poco dopo entro in modalità nerdective. Detective, detective. Devo pacciare questo bug. Orso a chiottone, lo sai che tra di noi non ci sono mai stati segreti? A parte quella volta che ho usato il tuo citro al posto del sapone per piatti. Se non mi dici le cose mi spaventro. Delle volte sei come l'ostro, con te non si capisce nulla. Orso a chiottone? Ignorare Marti era una spiacevole conseguenza. Circa 45 minuti dopo aver droppato Martina torno a casa. E trovo il mini mea ad aspettarmi. Sei tornato finalmente. Visto che non rispondi alle mie telefonate ho deciso di farti una visita di cortesia. Non ti dispiace vero? Dopotutto questa è casa mia. Ascolta, hai tempo fino a domani per portarmi i soldi. Mi sussurra una minaccia di morte. Immaginavo che avrebbe potuto metterla veramente in atto. Perdo tempo fino quasi le sei del pomeriggio dormendo. Faccio le mie ricerche sulla chimera. Tutto è rosso. Combatto contro quella tentazione. Ma quasi ogni mio pensiero mi porta in quella direzione. Natascha. Stampo. Prendo le analisi e una moneta di scambio. Eh già, sono proprio un nube. Internet è pieno di traduttori. Sono circa le otto quando mi accorgo di una cosa. No Martina, non mi sono scordato della sera da cinema. Passo prima da una parte e poi vengo. Sì, ho capito. Non ho mai visto al cinema Cowboy Bebop. Ormai non posso più rimediare. Solo ora che sto morendo riesco a vedere il tuo volto. Chiaramente. Molto poi si è aperto. Oh 저 cosa. Bebions. No partene stars. No parteneخر. No parteneц. Molto. No parteneari. Ma Perfectilo. No partenei. No partene... No parteneani- Un'ora dopo sono da lei Considerando i fatti sono contento di averla rivista Ma non mi è costato poco Natascia ti prego Non sei l'unica a parlare rosso che io conosca Ti ricordo che mi hai lasciata per quel hobbit Che palle Natascia Era solo un gioco di ruolo Una volta non avresti detto niente del genere Evidentemente stare con Frodo ti ha cambiato Devo lavorare Vattene via E se ti dicessi Black Lotus Alpha? Black Lotus Alpha Ora il mio T1 combo è completo Rivincitina Stavolta ti batto Vedremo Ma prima Dammi La chimera è una multinazionale con sede a Mosca Quinta produttrice al mondo di farmaci dermatologici Fondata nel 1993 Da poco quotata in borsa Queste sono analisi cliniche C'è scritto che ha i valori del potassio nel sangue tre volte superiori al normale A quanto pare a tutti i valori fuori dal normale Aveva È morto Bene, ora prendi il tuo Grimorio L'ho lasciato a casa Mi dispiace Ci sentiamo, eh? La mia rivincita Vincita Valedetta Beckins Non sono più il nerd di una volta Non porto più con me il mio Grimorio Il mio solo interesse era conoscere il contenuto di quei fogli Ho ottenuto ciò che volevo e me ne vado Iniziamo a vedere il primo film della nostra maratona settimanale Quando quell'insetto maledetto continua a camperarmi in testa Per criminali idioti serve un eroe all'altezza Però forse non ho mai preso in considerazione quello che fa nel suo piccolo Ma non sappiamo il motivo a chiesto solo di intervenire Vieni 5,5 Vieni Vieni L'interno a me Sia riporre sbaccata L'interno di una volta Il risco in crescita L'interno di una volta L'interno di una volta Va bene, porta maggiore A un punto da sesso Anche A donna domenica è la Civico 148 La Battiniicchia Ciglia La bannetta Il tipo di colore è molto buono L'interno mi clicoe La mia skill mi mandava già da un po' dei segnali Ma non li ho dato ascolto Quasi l'alba quando crollo sulla notevole Jessica Alba Speravo di fare un bel sogno Credo sia passato un altro minuto Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione